In mezzo alla gente è stato il tema del sesto festival della dottrina sociale della chiesa che si è svolto a Verona lo scorso novembre e che ha visto la partecipazione in quattro giorni di appuntamenti e seminari di oltre 20.000 persone. Gli atti e quindi l'eredità morale di questo evento che si era aperto con un videomessaggio di Papa Francesco sono stati presentati lunedì scorso nella sede di Cattolica Assicurazioni. Tra gli ospiti anche il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri che ha definito il festival un momento per smuovere le coscienze. Il festival regala e trasmette energia positiva in ciascuno dei partecipanti e quindi ti consente di riflettere sul tuo lavoro sul ruolo che occupi e su quello che puoi fare per essere più incisivo per essere più vicino alla gente. In mezzo alla gente esprime il superamento della solitudine l'incontro con la diversità perché l'io per diventare se stesso ha bisogno dell'incontro con l'altro. In mezzo alla dente dice che noi dobbiamo davvero lasciarci coinvolgere, guardare la realtà, ascoltare le persone e farci carico delle situazioni. È un invito a diventare molto molto concreti perché oggi c'è bisogno di risposte e molto meno di discorsi. Quindi è un tentativo, anche oggi ha visto c'erano tutte le istituzioni per dire dai che proviamo a vedere mettendoci insieme cosa possiamo fare. Il festival, dobbiamo dirlo, è stata una felice intuizione che ha permesso di far incontrare le diverse anime della società attorno a quelli che sono i valori identitari comuni e questo confronto anche a farci crescere quotidianamente e a richiamare noi stessi nel nostro impegno sociale come impresa.